Le imprese piemontesi sono cautamente ottimiste e confermano i segnali positivi emersi a marzo, anche se è prematuro parlare di una vera ripresa. Migliorano produzione, ordine e occupazione, torna a crescere misura apprezzabile anche il tasso di utilizzo degli impianti. Sono alcune delle indicazioni emerse dall'indagine di Ires Piemonte nella presentazione di Piemonte Economico Sociale 2013. La crisi e il Piemonte, qui si parla di una possibile svolta? Sì, diciamo che c'è un'attesa per una svolta. I segnali che arrivano ci dicono che qualcosa sta cambiando, sono segnali in generale positivi o comunque più positivi che negativi. Aumenta la produzione industriale del Piemonte, aumenta l'export, siamo la prima regione d'Italia, però purtroppo aumenta anche la disoccupazione e questo invece è il segnale negativo. Ha importanza fino a un certo punto che aumentiamo export e produzione se poi non riusciamo a tradurre tutto questo in occupazione e posti di lavoro.